Montagnana, Est e Campo Sampiero, ma in futuro saranno tanti altri, visto che i primi cittadini del territorio padovano hanno espresso interesse e gradimento per i progetti di riqualificazione urbana portati avanti dall'ASCOM assieme al Dipartimento ICEA dell'Università con il professore Edoardo Narne, che si è ispirato al rammendo urbano dal grande architetto Renzo Piano. Idee e novità illustrate in Senato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Commercianti guidato dal Presidente Patrizio Bertin e dal Direttore Generale Otello Vendramin, delegazione ricevuta a Palazzo Madama dal Senatore Padovano Antonio De Poli. Io credo che si debba ricominciare con forza, riprendere quella che è la nostra storia, la nostra tradizione e dare la possibilità alle nostre città, in modo particolare a quelle per caso più periferiche, di poter dare una prospettiva per il futuro per quanto riguarda il turismo, il commercio, il recupero dei nostri valori e delle nostre tradizioni. Sono dei contributi che vogliamo dare alle varie città della nostra provincia per renderle ancora più vivibili, sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista umano e abitativo. Dopo una visita guidata nelle stanze che hanno fatto la storia dell'Italia e dove è stata firmata la Costituzione, c'è stato un altro interessante convegno per analizzare la fiscalità e lo sviluppo nel settore terziario. Un'attenzione che è massima per le piccole e medie imprese tra lo spettro di un aumento dell'IVA e la conseguente frenata di consumi, il cuneo fiscale è una tassazione vissuta spesso come vessazione e non come contributo alla causa comune. Io sono convinto che pagare le tasse bisogna, bisogna pagarle tutte. La flat tax può essere anche questa una soluzione che può dare delle risposte alle imprese, però deve essere applicata perché tutti paghino le tasse, pagare tutti per pagare meno. Questo mi sembra che sia una slogan intelligente, una slogan che le imprese chiedono, ma non chiedono solo le imprese del nostro mondo, lo chiedono tutte le imprese. Interessante il dibattito al quale sono intervenuti il segretario della CGA di Mestre, Renato Mazon, la Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato, Anna Maria Bernini, l'Avvocato Tributarista Luca Giancola e Giuseppe Vegas dell'Università Milanese del Sacro Cuore. Soddisfazione per la delegazione Ascom nella capitale per l'accoglienza ricevuta dal senatore De Poli, che è quest'ora anziano del Senato, sempre attento all'esigenza del territorio e per aver portato in primo piano tematiche sulle quali con le loro imprese devono confrontarsi ogni giorno.